musica 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 france trasi sta aperto tempo? a tempo ciao france ma quello completo? france ti ha preparato la roba no france piaccia qui mangiare dopo non ci mangiare non ci mangiare ma non è un compleanno france ma che sei venuto a fare? io ho bisogno di buttare i regali un po' si deve la partita ma che è questa maglietta? che è questa maglietta? che è buona? è buona è bianconera è bianconera france che è questo luogo comune quando ci vediamo un po' ne avremo bianconero perché la squadra è la cosa questi stereotipi di capoletane mamma mia france c'è l'ignoranza posso pigliarmi? france ti ha sta ferma? aspetta che ha come in cimaro mi ha già preparato tutto ma non fai niente sta cominciando a me sta cominciando a me sta cominciando almeno la cosa è lì dici ti ha dato la coca col no, no, no france france ma? ma lo fa? ma come fa? france sei bloccato non sei bloccato come fa? e che appare? a chi va a chiamare questo? france è già parato ma ci ha parato la partita è lui già che non è la partita sei bloccato invece poi ci fa numero uno, numero uno, levo questa roba a mezzo che mi hai fatto lo sapevo, lo sapevo, tre ore, tre ore per mettere questa roba a cacca via, compleanno finito compleanno, ha dato questo compleanno, ma non è un compleanno, avessi portato i regali e vissi il compleanno? ma non facendo, mi fai una grippa a pensare che tu sei tu la peste, non hai mai letto a bianconi, sei tu una cucciola numero due, numero due, il nuovo telefono ci ha chiamato chi si fa? ma chi chiama a quest'ora? mi siano faccia partiti subito, immediatamente guardate, mi hai detto una cosa andata, c'è stanita immediatamente mi devi dare il telefono frangeli, che staccauto è lei si, potrei fare una stacca e il numero? ma che devi taffa a mezzo che non c'è un numero, non c'è un numero ma vabbè però suggerisci e che cazzo? non c'è posto? no, un attimo, hai ragione, la musica prende la tua tasta no un attimo, ma no, in questo istante ho chiamato, frangeli non c'è un attimo, non c'è un commento non c'è un commento, non c'è un commento, non c'è un commento ma non c'è posto? ma non c'è posto? ma non c'è posto? signora! io so bene quali sono i miei diritti signora pure si è molto stort pure si è molto stort per ironizzare ma per ironizzare, signora per socializzare per fare amicizia per fare amicizia ma mi muro in casa, signora io già volevo tagliare per la bolletta ma sono due tagli ma sono due tagli, signora barba e capilla barba e capilla ma vado in vacanza giustamente ma stanno più friggi signora, io se stasera non vedo il Napoli io stacco tutto, non mi interessa che fate? mi fate pagare 300 euro di pennappoli e io secondo voi pago 300 euro di pennappoli capito? 300 euro 300 euro capito? 400 euro no, no signora 400 euro però voi rovinate il padre eh che è il padre solo il padre signora voi rovinate anche me che sono il figlio e lo spirito santo amen e mi arrabbiate signora no pronto non ho un attaccato questo Francesco mamma mia sono due tagli sono due tagli non ho due tagli ma poi sono la migliore che stai facendo? ha 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 non ho due tagli non ho due tagli ma qualcuno ha due tagli tutto cosa si può fare mi interessa la parte Francesco vediamo tutto Però c'è un piccolo difetto Hai visto Franci, io so E questo non te avrò Sciocchezza, è una questione di pochi secondi di ritardo Però c'è prima la partita, tutto a posto Ehi Franca te di dormo Franci Ma dove è? Ma che avevi? Franci Sono il 3 a 8 Ma il forno dove rimedere? Grazie